Ciao a tutti, eccomi qua. Ho fatto appena proprio fresca fresca spesa da Tigotà perché per il compleanno mi è arrivato un'email che avrei avuto diritto al 20% di sconto presentando la tesserina loro e quindi sono andata subito e ne ho approfittato. Apro una piccola parentesi nel senso che io ho comprato cartigeniche e fazzoletti poi vi faccio vedere perché ero completamente a secco quindi mi facevano stracomodo. Il problema è che lì non hanno moltissime cose di carta riciclata, tipo i fazzoletti con la carta riciclata non c'erano, la cartigenica c'erano, di solito io la trovo a 1 euro, 1 euro e 10 massimo, lì costava 2 euro e 74, stessa marca, stessa quantità. Quindi la differenza è un bel po'. Allora io stavolta ho preso cartigeniche e fazzoletti normali, non di carta riciclata, però per quelle cose li tenderò di più ad andare alla saponeria che li hanno cose, appunto, più cose riciclate e a prezzo più basso. Chiuso a parentesi. Comunque ho preso intanto questi qua, sono i rotoloni, l'asciugatutto e hanno i finicotteri. Sono carini perché vedete sono tutti colorati. Questi qua erano in offerta, vediamo se li trovo, a 0,99, quindi 99 centesimi, così come la cartigenica perla, ripeto, io in casa ero senza, quindi per stavolta è andata. Poi ho comprato 0,99 sempre, queste qui, le salviettine, i fazzolettini fatti a salvietta e anche il loro sempre a 0,99 centesimi. Questi sono 80 pezzi, mentre qua non so quante ce ne siano. Però, tra le altre, voi sapete se per caso ce ne sono di carta riciclata anche queste qua? Perché non sarebbe male. L'ho detto, io sto diventando un po' fissata, però, insomma, non mi costa niente comprare le cose di carta riciclata, ecco. Anche qua 80, però in formato più compatto a questo punto. Poi, per 0,99 centesimi, ho ripreso queste salviette qua della Fria Utility, gli ingredienti ovviamente sono ottimi, con propoli e aloe vera. L'unica cosa è che non sono gettabili nel WC, solito problema. Però lì, di carta igienica gettabile nel WC, c'erano solo quelli piccolini, non c'era il pacco grande da tenere a casa e quindi, vabbè. Sono andato in un tigotà vicino a casa mia, che purtroppo non è che sia molto rifornito, però, d'altra parte, è comodo perché ce l'ho proprio vicino casa. Poi, ho comprato l'igienizzante perché ne faccio largo uso. 1,99 euro, era in offerta, uso questo qua della mucchina. Con all'interno la morbidente, però io comunque la morbidente ce lo metto sempre, un po' meno quando uso questo, però comunque ce lo metto. E mi piace perché rispetto a quello dell'omino bianco non ha un odore così tanto chimico come ha l'omino bianco. L'omino bianco, nonostante la morbidente che lo mettevo io un bel po', lasciava sempre un odore chimico che proprio non era il massimo. Poi ho visto che c'era l'offerta lancio di queste qua, per le lavastoviglie, ce ne sono 10 a 2 euro, quindi non proprio a buon mercato, però avevo appunto questo 20%. A 99 centesimi ho preso sempre i tempo, i fazzoletti. Ci sono gli scritti, ho visto, guardate che ci sono, vedete? E dietro c'è scritto, e anche oggi si limona domani. Carino, non ci avevo fatto caso, le avevo prese perché erano in offerta e qua in casa abbiamo silurato tutti i fazzoletti. È cominciato un po' di freddo e abbiamo tutti i nasi gocciolanti. Poi ho comprato questi qua a formato pocket, sono tutti a 99 centesimi. Sì. La cartigenica, appunto quella cartigenica, è gettabile nel WC. Non ho neanche controllato l'inci, sono andata avanti sulla fiducia. E sì, dai, ci siamo, più o meno. Io ho preso anche questa qua, l'intima, quella Fria, sono sempre della stessa marca, però hanno fatto uno in formato scuola e uno in così. E non sono testati sugli animali, perché c'è il simbolino del coniglietto che corre. Sono gettabili nel WC tutti e due. Questo però è fatto al 100% da energia di fonte rinnovabile, eccetera, eccetera. È più ecologico, diciamo. Questo qua è biodegradabile, però sì, è un po' meno... No, ho visto che anche qua hanno il simbolino sotto, quindi niente, come l'ho detto, scusate. Qua ce ne sono 12 più 4, sembrava più grande, comunque. E qua 12, ecco, perché ce ne sono 4 in più. Comunque tutti e due a 99 centesimi. A 99 centesimi ho preso anche le salviette struccanti, erano lì alla cassa in offerta. Questo hanno un buon inci. Mi cade tutto. E stavolta le ho provate per pelli delicate, sensitive, invece che di solito prendo quello azzurro. Stavolta ho preso questo qua, rosellino, perché non l'avevo mai provato. E fatemi controllare, però mi sa che costa tutto 99 centesimi. Sì. Tutto. Perfetto. Poi, per 1,99 euro invece, ho preso sapone vegetale bio, mani, viso, corpo, alla lavanda. Non è testato sugli animali, qualità vegana, certificazione appunto bio. E organismo di controllo, proprio certificato al 100%. Ecco. L'inci è ottimo, perché ha proprio nulla, che non funziona. Non ha neanche il tetrasolino in DTA, quindi non è inquinante. E c'era sia normale in offerta, sia la lavanda. Io ho voluto provare la lavanda, non l'ho neanche assaggiato, però ho voluto provare la lavanda, perché comunque di solito i saponi mani li uso anche per la faccia. Quindi ho detto, vabbè, lo prendiamo un po' più, un po' meno aggressivo, ecco. E sono 500 ml. Poi, ho comprato invece i detersivi per casa. Ho preso l'ammorbidente, concentrato 31 lavaggi, della Chanteclair. Perché la Chanteclair mi sta ispirando fiducia, in quanto sta facendo le linee, quelle abbastanza, diciamo, ecologiche. Ovviamente, oddio, il profumo è fantastico. Non è ecologico come la Winnis, però ci sta, insomma, sta andando anche lui verso la parte bio-eco. Bio-eco, quando io dico bio-eco, state per biologico-ecologico, magari lo abbrevio, che faccio prima. Soffice profumo, non dice a che gusto, però è veramente buono. E questo qua l'ho pagato. Qualità e responsabilità, comunque, lo stanno facendo, ve l'ho detto, sta facendo delle buone linee. E questo qui, vediamo un po'. 0,99, quello concentrato 625 ml. E poi ho comprato, appunto, Winnis sgrassatore e multiuso. Sgrassatore universale, anche per i tessuti, va molto bene. E poi, invece, c'è il multiuso per vetri, cristalli e tutte le superfici lavabili. E li ho pagati, perché mi sa che costano diverso. Allora, uno, lo sgrassatore 1,70 euro, mentre il multiuso 1,68 euro. Quindi capite che è proprio due centesimi di differenza. Io ho voluto provare l'anticalcare per sanitare i piastrelli e superfici inox. Io, più che altro, per la doccia, perché a volte lascia... L'acqua rimane lì sui vetri. Questo qua è nuovo, non l'avevo mai provato a questa marca. Qua, proprio certificata verde, officina, senza profumi, niente nicola. Certificato Icea, vegano, quindi della linea Pierpaoli. Se voi avete visto il video dei test sugli animali, vi dicevo proprio la Pierpaoli. Questi assolutamente non testano, sono certificati. È fatto con olio essenziale di eucalipto, quindi direi che anche gli ingredienti sono veramente, veramente ottimi. E se mi dovessi trovare bene, penso che ci darò dentro anche con questa marca qua. Se riesco a trovare il coso, vi dico anche quanto l'ho pagato. Eccolo qua, 1,99€ di 500ml, quindi comunque direi... C'era un sacco di roba, dai bagno a tutto, direi che... Se mi trovo bene ve lo faccio sapere che così almeno anche voi andate a cercare questa linea qua. Io vado a letto perché ho fatto le ore piccole ieri, era il mio compleanno. Quindi vi mando un bacio e buonanotte.